E per vedere il video senza interruzioni pubblicitarie, abbonati al canale. Buona visione! Il genere si manifesta in ogni cosa e su tutti i piani. Ogni cosa ha il suo principio maschile e femminile. Questo principio ci dice che in ogni cosa c'è un genere. Ovunque troviamo il maschile o il femminile. Tutto questo vale, oltre che per il piano fisico, anche per quello mentale o spirituale. Quanto al piano fisico, il principio ha la sua evidenza nel sesso, mentre nei piani superiori, pur assumendo forme più elevate, rimane invariato. Non c'è possibilità di creazione fisica, mentale o spirituale senza l'applicazione di questo principio. Comprenderlo significa dare un raggio di luce ad argomenti fino ad ora oscuri alla maggior parte dell'umanità. Esso opera sempre rivolto alla creazione, generazione e rigenerazione. Tutto è fondato su questo principio. Vi è racchiusa la chiave di gran parte dei misteri della vita. Vi è racchiusa la chiave di gran parte dei misteri della vita. Vi è racchiusa la chiave di gran parte dei misteri della vita.